il best western hotel 3 torri vi attende a pochi minuti del centro storico di vicenza a solo 50 chilometri da verona e venezia a 25 chilometri da padova e 80 chilometri dalle dolomiti bellunesi un ottimo punto di partenza per scoprire le bellezze naturalistiche ed architettoniche di tutta la regione il best western hotel 3 torri ha proposte sia per la clientela d'affari che per il viaggio di piacere proponendo infatti sia tre sale per congressi e conferenze che pacchetti per soggiorni a tema sportivo culturale gastronomico luminose e insonorizzate le camere comfort superior deluxe suite hanno in comune la funzionalità da ready e le più moderne dotazioni tecnologiche quali connessione internet veloce lan wifi e tv satellitare con decoder sky il ristorante l'altro penaccio propone carne alla brace pesce fresco e piatti della cucina veneta nella carta dei vini 200 etichette italiane con predilezione per triveneto piemonte e toscana oltre una selezione di vini esteri a disposizione degli ospiti un garage custodito posti auto e una palestra attrezzata